Oggi 24 febbraio 2024, c'è il carnevale spesteggio 40esima edizione, c'è il divieto di sosta via Roma, a tra strada dove va verso Piazza Umberto Prima, in particolar modo via Le Ducale di Abruzzo, via Le Ducale di Abruzzo con la farmacia con la piazza bianca. Quindi tutte le auto sono parcheggiate attraverso le attraverso, vedete? Tutte le attraverso sono parcheggiate, anche qui parcheggiate, anche qui, anche lì, e pure anche la casetta, se ti vedete. Vabbè, sarebbero del centro, se si vede, se scende forse si vede da qui, però deve scendere piano piano. Da vicino, ecco qua la piazza. No, questo sarebbe, secondo me, il punto è un po' più in alto, perché sopra ci sono gli alberi. Ecco la piazza. Quindi, inquadriamo la piazza, sotto c'è il comune, la popolazione davanti al comune per assistere alla partenza dei carri, il carnevale. E anche sotto c'è via Alessandro Trolloni, dietro al comune in area di parcheggio. Ma c'è da notare, che anche sotto, a via Pietromicca, ci sono, eccolo qui, via Pietromicca, fammi mettere attraverso così, auto in sosta. Praticamente qui provengono anche dai paesi circostanti per assistere all'aspirata dei carri. Così ha rimpiccolato la grandezza, mentre così si ringrandisce. La fama rimpiccolata. La fama rimpiccolata. La fama rimpiccolata.